Personale, perché questo saggio come chi vorrà leggere il libro, chi ha già letto, non tarderà a capire che non è un libro con pretese esaustive o accademiche, ma appunto offre un determinato percorso a cavallo tra rock e letteratura. Bene, addentriamoci un po' nel libro, tu lo suddividi in quattro capitoli più un bonus track che invece è dedicato a Leonard Cohen. Sul primo capitolo che tu intitoli Burrogsiana, c'è l'introduzione che se vuoi io leggo. Sarebbe fantastico, vai pure, grazie. Chelsea, New York. All'incrocio tra la Sista Avenue e la ventesima strada, si staglia un bel edificio in stile neogotico, dai mattoni rossicci. Originariamente era una chiesa, tirata su a fine ottocento, sconsacrata dai primi anni settanta, divenne prima un centro di recupero per tossicodipendenti e infine, nel decennio successivo, un club notturno, il Limelight, frequentato da artisti intellettuali e dagli stessi tossici che nella precedente gestione avrebbe dovuto riabilitare. Non proprio gente qualunque in questo Limelight. Esatto, parliamo della festa di compleanno dei settant'anni di uno scrittore che si chiamava William Burrogs e che è uno dei personaggi chiave attorno a cui ho deciso di far ruotare questo racconto. Perché appunto ho cercato, nel momento in cui ho accettato di cimentarmi con questa materia, alcune figure che davvero, come dire, avessero racchiuso al loro interno una sorta di ponte umano o creativo tra letteratura e musica. E William Burrogs è uno di questi, anzi forse il personaggio che ricorre di più all'interno del libro. Burrogs è stato uno dei padri fondatori della Beat Generation, sodale di Jack Kerouac, compagno di scorribande di Allen Ginsberg, scorribande di ogni genere, perché erano molto generosi con il consumo di droghe, alcolici, eccetera, eccetera. Però soprattutto è stato uno dei più grandi scrittori del Novecento, probabilmente uno dei più rivoluzionari. E la sua rivoluzione letteraria ha sedotto diverse generazioni di cantautori, di scrittori di musica, da partire da David Bowie fino a Kurt Cobain o a Michael Stipe dei Rem, come racconto nel corso del libro, soprattutto in virtù della sua peculiare tecnica narrativa che si chiama Cut Up, ovvero un procedimento che ha di fatto inventato lui in Marocco con Brian Gisin, che era un altro suo compagno di scorribande, e che consisteva nel creare una sorta di collage narrativo procedendo in maniera davvero artigianale, ritagliando dai giornali e componendo dei testi che fossero appunto una sorta di collage, ovviamente con un senso, perché... Molto dada. Sì, esatto. C'era naturalmente quello che Barrox voleva dire era a monte, e poi lui appunto si appropriava di quello che era uscito su riviste e giornali e creava questi collage. Quindi ecco, il libro si apre con la sua festa di compleanno in questa chiesa sconsacrata New York, 70 anni, che è, come dire, ho trovato molto simbolico per aprire questo libro, perché in questo contesto si ritrovano gente come Lurid, c'è anche Madonna, perché, voglio dire, era un artista, come dire, che esercitava un fascino anche sui personaggi più pop, se vogliamo. C'era Frank Zappa, c'erano veramente molti artisti della scena del tempo. Immaginatevi magari... C'era Sting dei Police, per esempio, insomma. Anche di andare in un bar o in un pub e di trovare allo stesso tavolino dei personaggi del genere. Beh sì, chi volesse, io non l'ho potuto mettere nel libro per questioni di diritti, ma basta fare una ricerca e c'è una foto che immortala quella serata con Barrox e Madonna fianco a fianco, Madonna che in quell'anno sarebbe uscita con Like a Virgin, quindi era in rampa di lancio, come si può dire. Certo. Quello che tu descrivi anche all'interno del libro è un collante tra il genio e la sregolatezza. Venendo nel prosieguo, al confine del Southern Gothic, tu parli di una data importante per te, ma anche per la storia del rock, che è il 6 marzo del 2010. Qui viene in pieno anche una tematica un po' scomoda, che ha creato anche molti, come dire, dei meandri un po' scuri, con la quale si è creato anche il cosiddetto Club 27, no? Che è la tematica del suicidio che molto spesso accomuna i maestri del rock. Sì, questa è una cosa che ovviamente, essendo un appassionato di musica, come dire, già mi era nota. Però in effetti è stato particolare, scrivendo questo libro, rendermi conto come molte di queste rock star, soprattutto anime sensibili, in effetti il suicidio, la morte è un tema ricorrente. Nel primo capitolo parlo ad esempio di Kurt Cobain, qui torno un attimo Barrocks, perché Kurt Cobain era un vero e proprio fan dello scrittore americano, smaniava per conoscerlo, gli scrisse anche una lettera per prendere parte al video di Hershey Box, a cui il buon Barrocks declinò, perché avrebbe dovuto interpretare il ruolo di un personaggio che moriva, e quindi Barrocks caramanticamente decise di declinare l'invito. Poi c'è una famosa foto tra Kurt Cobain. C'è una famosa foto che ritrae i due insieme, nella proprietà di Barrocks, e c'è anche un'altra foto bellissima che immortala Kim Diehl dei Sonic Cutes e Michael Stipe, in compagnia sempre del reverendo Barrocks. Invece la data a cui facevi riferimento tu riguarda un musicista sicuramente meno popolare di Kurt Cobain o di Ian Curtis, che è un altro degli artisti che purtroppo ricorre nel libro a tema suicidio, che è Mark Linkus dei Sparklers, che è un gruppo che io ho sempre amato molto. Dal punto di vista della qualità, nell'alternative rock degli anni 90, ce ne sono pochi di gruppi che possono vantare una discografia così ricca. La data a cui facevi riferimento, il 6 marzo 2010, è quando appunto ho appreso che Mark Linkus, anche lui, aveva deciso di farla finita, e da lì inizia il secondo capitolo del libro, che si chiama appunto Al confine del Southern Gothic. Southern Gothic è una scena letteraria americana che include scrittori come Flannery O'Connor o William Faulkner, e si chiama Southern Gothic, proprio perché prende base nel sud degli Stati Uniti, quindi Tennessee, Virginia, West Virginia, Alabama, eccetera. Ed è, come dire, mi interessava fare questo discorso dopo il primo, che era molto cosmopolita, parliamo di New York, parliamo dei lustrini, se vuoi, delle feste, invece la seconda parte ha una dimensione molto più intimista, il sud degli Stati Uniti è una delle zone più povere del paese, terra di grandi contraddizioni, e un cantautore come Mark Linkus si è fatto portavoce in chiave musicale, attingendo sia agli scrittori che ho citato, ma anche al grottesco caro a David Lynch, per esempio, hanno anche collaborato insieme i due, ed ecco, chi non conoscesse Sparklors gli raccomando davvero di approfondire la loro musica. Poi c'è una cosa interessante che tu fai a fine di ogni capitolo, cioè citi testi letterali che tu hai magari percorso all'interno del capitolo, con accanto anche dei pezzi che si può ascoltare, è una sorta di linea narrante che io ho apprezzato molto. Un'altra nota a tuo favore è appunto discorso note, cioè il libro è ben condito di tantissime note descrittive, più specifiche su determinate cose che magari non è una conoscenza comune. Venendo poi nel proseguo, questa bonus track che tu hai inserito nel libro, che è una sorta di tua dichiarazione d'amore, se posso definirla così, perché tu apri sinceramente con amore a un artista che è Leonard Cohen. Sì, la bonus track è perché in effetti è l'unica parte del libro che è dedicata a un singolo artista, mentre le altre sono una miscellanea di artisti, di scrittori e di musicisti. la parte su Leonard Cohen, che è un pochino più piccola, è dedicata solo a lui. È una dichiarazione d'amore certamente, perché amo da che ho coscienza musicale la musica di Leonard Cohen, ma è anche un obiettivo, un oggettivo tributo a un artista che è un altro di quei personaggi che citavo prima. Davvero al suo interno le due forme, letteratura e musica, si combinano alla grandissima. Basta pensare che Cohen nasce scrittore prima di diventare musicista. lui esordisce a 32 o 33 anni, adesso non ricordo con precisione, però insomma ultra trentenne, che è una rarità nel mondo della musica, perché tendenzialmente gli esordi avvengono molto prima. Sì, nei vent'anni. Però non è che prima dei trent'anni Cohen non aveva fatto niente, aveva scritto poesie, raccolte di poesie, raccolte di racconti, aveva scritto due romanzi, molto apprezzati dalla critica e anche dal circuito alternativo che intanto era cresciuto a New York attorno al Greenwich Village, dove appunto potevi incontrare il Bob Dylan dell'epoca o il Lou Reed che frequentava Andy Warhol. Ecco, in quel tipo di contesto i libri di Cohen come scrittore erano già molto noti. Il problema è, lo dice Leonard Cohen a un certo punto in un'intervista, è che va bene gli apprezzamenti, va bene le recensioni positive, però a un certo punto Cohen decide di voler fare un po' di soldi e si cimenta con la musica e per fortuna si è cimentato con la musica perché poi ci ha regalato delle canzoni straordinarie e soprattutto le prime canzoni che lui incide, un nome su tutti, su Zen, prima di essere la canzone con quel giro di accordi che conosciamo, con quella voce così, come dire, carismatica, celestiale che conosciamo, era una poesia che lui aveva pubblicato qualche anno prima, adesso non ricordo che è complicito, però qualche anno prima rispetto al disco d'esordio in cui è contenuta, e appunto Lee Cohen ha davvero messo insieme letteratura, la sua scrittura con la musica. Ed è stato anche l'ispirazione al leader de Nirvana, a Kurt Cobain, che infatti lo cita in Penny Royalty, e dice dammi un al di là come Leonard Cohen. Questa è una delle cose che, come dire, mi piace di questo libro, che magari ha dei difetti sicuramente, però mi piace quando ci sono delle cose che tornano in maniera spontanea, cioè non è che sono andato io a inventarle, è vero che Kurt Cobain, di cui avevo parlato prima, in una sua canzone bellissima, Penny Royalty, cita proprio Leonard Cohen come una sorta di aspirazione a cui voler essere. E venendo poi alla scena inglese, cioè il capitolo This is England, in cui c'è una citazione che io voglio leggere, che è di Morrissey. C'è di più nella vita che nei libri, sai, ma non così tanto, non così tanto, che tra l'altro tu poi la metti in parallelo con un calco shakespeariano, cioè ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quanto tu ne possa sognare nella tua filosofia. Questo è Amleto nel primo atto. Beh, This is England è cosa di più inglese di William Shakespeare e Morrissey. Questa parte di cui stiamo parlando adesso è tutta giocata sul rock inglese, ci sono band come gli Smiths, come i Cure, come i Joy Division, e però sono partito quasi appunto anche qui spontaneamente da Morrissey, che è un altro davvero dove letteratura e musica si combinano naturalmente. Oltre a Shakespeare, che citavamo adesso, diciamo che il suo vero riferimento letterario Oscar Wilde, tant'è che alcuni critici lo hanno accusato di vero e proprio plagio, in certi casi, perché non si sa mai dove finisce l'influenza e dove inizia la limitazione. Morrissey si è sempre difeso da par suo. Però una cosa divertente in cui mi sono imbattuto lavorando a questo libro nelle ricerche che ho fatto è che c'è una rivista inglese online che non più tardi di 4-5 anni fa ha proposto un simpatico quiz in cui proponeva una frase e poi chi avesse deciso di fare questo quiz doveva indicare se l'autore della frase era Oscar Wilde e Morrissey. Questo per far capire quanto fosse margine d'errore. Il confine è molto labile, diciamo. Beh, la scena inglese poi tra l'altro è sempre di ispirazione, per fare un collegamento anche un po' contemporaneo. Diciamo che anche la scena indipendente che ha coniato il termine che oggi conosciamo indie deriva tutto da lì. E anche quello che ho notato nel tuo libro è che ha uno sguardo molto classico, se posso definirlo così. Classico nel senso che c'è poca musica, diciamo, degli ultimi vent'anni. Forse. Sì, no, è così. Naturalmente, lavorando a questo libro me ne sono reso conto. Le spiegazioni che mi sono dato sono due. La prima è che ho scritto della musica che più piace a me. E quindi, non fatemene una colpa, ma fondamentalmente la musica che piace di più a me è quella degli anni 90, che infatti sono forse il decennio più presente. D'altro canto, però, c'è un'altra cosa, e questa non dipende da me invece, cioè che il rock obiettivamente ha perso una certa importanza a livello mediatico, culturale o di impatto, soprattutto l'ultimo rock, perché non a caso molte radio passano magari i grandi classici, passano le grandi band degli anni 60, 70, 80, 90. E dietro la perdita di rilevanza culturale del rock c'è anche probabilmente una crisi di idee che in qualche modo si ripercuote anche nel momento in cui andiamo ad analizzare l'immaginario a cui attingono. È anche vero che per esempio a un certo punto nel libro cito un gruppo non neanche di primissimo pelo, però più recente, come gli Interpol, che invece hanno, come dire, attinto anche loro alla letteratura. Paul Banks, il leader degli Interpol, cita spesso Fyodor Dostoevsky come uno dei suoi autori prediletti, e nell'oscurità delle sue canzoni, e anche Franz Kafka per esempio, e nell'oscurità dei testi delle sue canzoni si percepisce un po' questo tipo di influenza. Veniamo all'ultimo capitolo prima di arrivare alla conclusione. Tu lo intitoli Visioni, che tra l'altro è anche all'interno del sottotitolo del libro, e dividi topicamente in paragrafi che denomini in amore e morte, quindi un intreccio tra Eros e Thanatos, e una cosa che a noi piace tanto qui a Sherwood, libertà e ribellione, perché alla fine fare rock è anche questo. L'ultimo capitolo è quello in cui ho incrociato alcuni artisti in base a questi tre temi che hai citato tu, cioè amore, morte e libertà e ribellione, che sono due archetipi davvero della storia dell'arte, più l'ultimo che è invece un mito fondante del rock and roll, del rock, cioè la libertà, la rivoluzione, la ribellione, e in questo contesto non ho potuto fare a meno di citare due artisti che fino ad adesso non abbiamo ancora nominato, che sono Patti Smith e Bruce Springsteen. Eh sì. Anche loro due classici, però in effetti se pensi alla ribellione nel rock, Patti Smith è un nome che non davvero non si può fare a meno di menzionare. Ma anche P.J. Harvey? O anche P.J. Harvey, che normalmente la si associa spesso. Una erede, se vuoi, una delle eredi più grandi di Patti Smith. Invece di Bruce Springsteen, il passaggio riguarda la sua... il disco The Ghost of Tom Joad, che riprende il libro Furore di Stanback. ed è un'altra cosa molto interessante come Bruce Springsteen per raccontare la crisi dell'America degli anni 90, perché The Ghost of Tom Joad, il disco acustico di Springsteen, è uscito, credo, nel 95-96. È da lì che viene Born in the USA. Born in the USA era la fase precedente. Praticamente esatto. The Ghost of Tom Joad, è in realtà le conseguenze del disfacimento del sogno americano. E per raccontare la povertà, la miseria di quell'America, che tra l'altro era l'America di Clinton, quindi un uomo politico sicuramente vicino a Springsteen, decisamente più vicino a lui di quanto non lo sia, che ne so, Trump o Bush o Bush Junior. Però ecco, racconta la miseria di quegli anni e per farlo va a ripescare il libro Furore di Steinbeck, che raccontava invece la grande crisi della fine degli anni 20, del 29, e tutto quello che ha comportato nelle vite di centinaia, di migliaia di persone che si sono dovute mettere in moto, in movimento, in questo grande continente che è gli Stati Uniti per scampare alla povertà, alla miseria vera e propria. E ovviamente si potrebbe parlare di questo libro per ore, tanto, anche perché... Non esageriamo. Vabbè, è un orizzonte vasto e complesso come tu stesso parli. Sì, no, sicuramente ci sono molti spunti. Su questo sì, ci sono diversi spunti. Sì, è una situazione specifici che è stata una tua scelta di non addentrarti anche nella scena italiana e che probabilmente sarà un tuo prossimo lavoro. Sì, completo la questione spunti. Una delle cose che, infatti, penso sia utile di questo libro è che chi dovesse leggerlo magari può essere incuriosito da alcuni nomi e recuperare alcuni artisti, cosa che mi è capitata, nel senso, alcuni lettori mi hanno parlato, mi hanno scritto e mi hanno detto che, che ne so, ho letto che parlavi di Flannery O'Connor e ho comprato un libro di Flannery O'Connor e questo per me già è un risultato. Io ho letto, invece, Hollebeck. Eccolo, vedi. Ecco. E invece la questione italiana chiudo perché me l'hai chiesto e dovrebbe essere sì il nuovo capitolo di questo libro. Non voglio fare un'enciclopedia, però un'altra parte italiana ci sta perché in origine doveva essere contenuta qui. Però poi non me la sono sentita di condensare tutto in un singolo capitolo e quindi potrebbe essere, anzi, penso sarà un secondo volume dove parlo della scena italiana. Noi lo aspettiamo e poi eventualmente ti rinvitiamo qui a Sherwood. Con grande piacere. E ora c'è la domanda che facciamo a tutti che siedono sempre su quel divanetto sulla tematica contro il cambiamento climatico perché lo Sherwood Festival quest'anno si impegna sulla giustizia climatica. Quali sono le azioni che tu, Liborio, fai nel tuo quotidiano? Per esempio, questo è carta riciclata? Quella è carta riciclata. Vedi? Assolutamente. Abbiamo già una cosa? Devo dire che non è un merito mio perché è un merito dell'editore. Per il resto io posso fare poche cose però credo che tutti possano fare qualcosa. Vivo in una città molto complicata che è Roma però scelgo il trasporto pubblico almeno quando funziona. Consumo, veramente cerco di consumare al minimo la plastica, ovviamente pratico il riciclo anche lì invece bicicletta, Roma sono un connubio che non tanto funziona quindi mi difugio ancora una volta nel trasporto pubblico e poi in generale mi ritengo una persona a parte tutto molto poco consumista quindi cerco di utilizzare le cose che acquisto il più possibile e penso che sia un comportamento non solo ecologico ma anche politico. Grazie, noi ti ringraziamo Liborio e ovviamente invitiamo coloro che fossero interessati ad acquistare il libro Rock Lit che trovate alla libreria di Sharebooks i ringraziamenti vanno ovviamente all'organizzazione di Sharebooks grazie alla quale c'è stata questa presentazione del libro oltre che ai tecnici. Grazie mille. Grazie a voi, grazie davvero. Grazie a tutti.